9 nuove piste ciclopedonali urbane saranno realizzate in Toscana grazie a 2.800.000 euro di fondi europei PORFESR 2014-2020. I progetti sono stati selezionati dalla regione e le risorse saranno assegnate nei prossimi giorni, andando ad aggiungersi a precedenti finanziamenti per 8,4 milioni di euro. Tra i progetti presentati dalle amministrazioni comunali sono stati scelti quelli di Vaiano, Prato, Borgo San Lorenzo, Empoli, Murlo, Scandicci, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Livorno e Rosignano Marittimo. Siamo impegnati con i fatti, non soltanto con le parole. Credo che stiamo passando veramente da quella che è la nostra programmazione a dei progetti concreti che in questo caso sono stati premiati con 2.800.000 euro attribuiti attraverso un bando, si tratta di fondi europei che abbiamo assegnato per quanto riguarda la mobilità cielistica in ambito urbano. L'assessore Ceccarelli ha inoltre ricordato che nella graduatoria per l'assegnazione delle risorse sono stati privilegiati progetti che, coniugando mobilità sostenibile e riqualificazione urbana, risultavano più coerenti con gli strumenti di pianificazione dei comuni e con la rete ciclabile regionale individuata dal piano regionale integrato delle infrastrutture. Grazie a tutti.